Io posso dire che ci metterò tutta la partecipazione, perché è una cosa che trovo molto musigliera, molto importante, significativa per la città, e quindi ci metterò tutta la partecipazione che ci può mettere un figlio di questa terra per qualcosa che riguardi la propria terra. Magari, dato che ha citato Rosi in conferenza stampa, magari se li farà anche questo regista? No, ma io non mi rifaccio. Dicevo, parlavo dei film di Rosi, semplicemente per dire che nei film di denuncia di Rosi non c'era solo il racconto del Sud, ma c'era anche l'indicazione di una strada, perché chi ama veramente i nostri luoghi, li ama e non ha voglia solo di raccontarli, ma ha voglia anche di divulgare la nostra traduzione, le nostre storie, e anche magari di modificarli, di farli diventare migliori. Nelle volte il Sud viene raccontato come o una cartolina o come un luogo terribile, ma non c'è mai l'indicazione di una strada, la voglia di cambiare. Io invece sono un figlio di questa terra, per cui farò le cose per questa terra, le farò sempre con l'intento di mettermi al servizio di questa terra, non solo di raccontarla setticamente perché poi me ne torno a Milano, io ho la mia storia qui.